Nella mattinata del 26 maggio, presso il parco Gino Pilandi di via Elenia Gora, Milano Marittima, il presidente del Hostalbe Kreis, Klaus Pavel, ha consegnato alla consulta del volontariato di Cervia il ricavato realizzato grazie ai giochi di legno donati proprio alla città, presenti numerose autorità e gli alunni della scuola primaria Mazzini. Nel 2015, in occasione della manifestazione Cervia-Città-Giardino, la provincia di Hostalbe Kreis gemellata con la provincia di Ravenna ha realizzato un allestimento speciale dedicato all'infanzia perché i giardini sono spazi che devono essere vissuti. L'allestimento, composto da una serie di piste per biglie, è stato realizzato dal gruppo artistico Sculpturis, formato da diversi artisti che scolpiscono il legno in collaborazione con l'impersonale di Hostalbe Kreis. Tutto questo è stato possibile grazie ai proficui rapporti di amicizia e di collaborazione tra Cervia e la provincia dell'Hostalbe Kreis, che da anni partecipa a Cervia-Città-Giardino. Tutto questo è stato possibile grazie ai proficui rapporti di amicizia e di collaborazione tra Cervia e la provincia di Hostalbe Kreis, che da anni partecipa a Cervia-Città-Giardino. L'obiettivo di vivere il giardino è stato pienamente realizzato dunque, in quanto i giochi di legno continuano a divertire ed entusiasmare ogni giorno grandi e piccini, anche adesso nel parco Gino Pilandri in via Ilenia-Gora, sempre a Milano Marittima, dove hanno trovato dunque una dimora fissa. Ogni biglia ha un costo di 50 centesimi e può essere utilizzata senza limite di tempo. Resta chi è l'acquistata per giocarci sempre quando vorrà nel parco. Il presidente Klaus Pavel ha fortemente voluto questo progetto e quest'anno donerà quanto incassato alla consulta del volontariato di Cervia, che continua a curare costantemente e con grande attenzione la gestione di questi giochi per la realizzazione di obiettivi legati al sociale. Un esempio di come un giardino possa essere un bene per la comunità, non solo da un punto di vista ambientale, ma sotto un aspetto ludico e anche sociale. Ringraziamo sentitamente il presidente Klaus Pavel per la donazione e la consulta del volontariato, in particolare Oriano Zamagna e Luigi Nori, che si occupano personalmente della cura e della gestione dei giochi e dell'attenzione che riservano al giardino. Questo è quanto ha dichiarato il delegato al verde della città di Cervia, Riccardo Toddoli. Credo che era un meraviglioso feste che abbiamo con i bambini di Cervia e abbiamo con i bambini di Cervia. E con molti bambini che in ferie a Cervia sono arrivati a Cervia e siamo molto frodi, perché crediamo che in questo parco questa bambina di Cervia è molto affrontata e sicuramente molto felice. Perchè dei giochi non altre cose? Il valore del gioco? Io sono sicuro che quando i bambini facciano qualcosa con i bambini di Cervia e la città è importante per il tutto il mondo. Ho detto un po' spazzicolo, che si dovrebbe invitare a tutti i bambini di Cervia e 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 a tutti i bambini di Cervia. Grazie a tutti.